Sono Giorgio Boschi di Audiogamma, sono qui all'ISE 2012 e vorremmo parlare di RANCO. RANCO in questa fiera sta presentando una serie di nuove soluzioni di videoproiezione 3D, attiva e passiva. RANCO si è impegnata a sviluppare tutte e due le tecnologie per seguire al meglio le richieste dei clienti. Presentiamo un prodotto che si chiama D73 in due versioni standard e ultra. La differenza dell'ultra è che ha la possibilità di avere ottica intercambiabile, quindi dà la possibilità al cliente di poter installare il proiettore a qualsiasi distanza in base alla dimensione dello schermo. Invece la versione standard con ottiche 1.8 e 2.4. Tutti i due modelli hanno la possibilità di montare ottiche 2.35, quindi dare al cliente la sensazione di essere veramente al cinema e quindi godere tutti i formati 2.35 che sono oramai formati dei movie standard che si possono acquistare. Contemporaneamente c'è questa presentazione di questo nuovo e fantastico prodotto che si chiama LS12 che è un proiettore 3-chip full HD 3D attivo ad un prezzo per le caratteristiche, per la luminosità e per le possibilità che ha la macchina decisamente molto interessante con un nuovo processore DC300 che permette di sviluppare sicuramente immagini e sensazioni incredibili per gli amanti e gli appassionati di questo settore.